Mandalizzata la passeggiata turistica nell'area archeologica di Pestum che dall'ex stabilimento Cirio conduce a Torre di Mare. I gnoti balordi infatti hanno divelto e distrutto tutti i punti luce scenografici posti a raso, molti dei quali lasciati anche con lampade rotte e fili elettrici scoperti, quindi potenzialmente pericolosi per l'incolumità di passanti e turisti, uno esempio deprecabile sotto tutti i punti di vista che oltre ad aver provocato danni economici ha rovinato il marciapiede scenografico che dai templi porta direttamente al mare, costeggiando le mura dell'antica Poseidonia e le sponde del rio Capodifiume realizzata nel 2016 dall'allora amministrazione guidata dal sindaco Italo Vozza attraverso il recupero di un finanziamento statale di un milione di euro già precedentemente erogato a favore del comune di Capaccio Pestum finalizzato di interventi di riqualificazione all'interno dell'area della legge 220-1957.